in collaborazione con sale gioco jackpot las vegas scommettiamo che ti diverti fai la carta di parma non pensare di essere il più veloce vieni a dimostrarlo a parma in via mantova 86 a se non vuoi restare da solo vieni qui e fatti un regalo non comprami io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile ma un po' d'amore un attimo un mondo semplice una parola un gesto una poesia mi basta per venire via felicità è una canzone bassa che cantare mi va una musica che prende e che ballare mi fa se non sai da un film a colori portar via le frasi agli attori se per te il sabato sera non c'è mai una donna sicura se non hai sulla tua rubrica una che sia più di un'amica allora un grande successo di viola valentino comprami anno 1979 per introdurre l'argomento di questa puntata di calcio e calcio la numero 3 della stagione buonasera benvenuti ben ritrovati siamo regolarmente in onda come annunciato e com'è consuetudine della nostra trasmissione nonostante la sosta di serie a come saprete senza dubbio nel weekend non si è giocato per lasciare spazio agli impegni delle nazionali noi però siamo regolarmente in onda come sempre questa sera maggior ragione proprio per cercare di analizzare il mercato estivo del parma giocatore per giocatore reparto per reparto ricorderete lunedì scorso siamo stati in onda per seguire minuto per minuto gli aggiornamenti delle trattative dall hotel hilton di milano un mercato nel quale il parma è stato assolutamente protagonista sin dai primi giorni e fino alle ultimissime ore questa sera aspettiamo naturalmente come sempre tanti vostri contributi c'è già chi si è scatenato attraverso la tastiera nelle ultime seme ore in giornata quando abbiamo anche annunciato l'ospite speciale di questa sera ebbene tifosi che sarete protagonisti anche per tutta la durata della puntata fino alle 22 30 a a fare da trade union tra lo studio e i vostri computer e le vostre case i vostri televisori il nostro lorenzo pava buonasera lorenzo ben ritrovato postazione social network buonasera michele buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono da casa ci scrivono su internet tra questi salutiamo francesco detto il manno che dice meno male che ci siete voi che non fate la pausa ma come si fa a fare la pausa dopo le nazionali e la chiusura del mercato salutiamo tutti noi ringraziamo ringraziamo francesco e aspettiamo anche altri suoi anche altri suoi commenti e chiaramente noi siamo qui riceviamo i vostri messaggi tramite la pagina di tele educato parma che potete trovare sul social network facebook e poi inviateci i messaggi al numero di tele educato noi leggeremo tutto allora prima di presentare i nostri ospiti c'è uno che è appena concluso una telefonata qua nel nostro corrido tra qualche istante si accomoderà però prima di presentare i nostri ospiti e di partire con il nostro dibattito consentitemi di rivolgere a nome di tutta la nostra redazione della trasmissione le condoglianze alla famiglia di un grande tifoso del parma damiano ricco 36 anni stroncato da un male incurabile nei giorni scorsi crediamo che damiano sarà sugli spalti del tardini comunque per tutto il campionato per sostenere il parma e per non far mancare il suo incitamento che c'è sempre stato nel corso degli anni anche durante questo campionato allora possiamo fare intanto accomodare qua siamo in diretta diamo lo salutiamo buonasera pietro leonardi benvenuto ha concluso una una telefonata poi magari chiederemo se era anche una telefonata di lavoro inerente a qualche svincolato dell'ultima ora buonasera pietro leonardi è stato incoronato come re il re del mercato questa sera parleremo a lungo di mercato nella nostra trasmissione benvenuto direttore adesso poi i nostri tecnici la microfoneranno appena appena possibile un saluto anche al direttore di stadiotardini.it gabriele maio buonasera gabriele ben ritrovato buonasera al nostro vulcanico opinionista questa sera ci auguriamo un pochino più calmo del solito enrico boni buonasera fermati un secondo che intanto che si microfona leonardi io tiro fuori qualcosa dalla valigetta ecco qua allora a me non interessa quello che fanno i siti nazionali specializzati però io da parma incorono con questa coppa leonardi quale miglior direttore generale miglior direttore sportivo generale chiamalo come vuoi per il mercato testè trascorso ho saputo coniugare qualità ha saputo tenere sempre d'occhio il bilancio quindi questa angella è la coppa che come te l'educato partecipato io il direttore tu naturalmente queste cose non non c'entri io do la nostra coppa anche perché guarda enrico è di plastica ma che di plastica questo è il valore simbolico questa coppa da parma nelle mani di leonardi ha un valore immenso ma tu queste cose non le capisci buonasera a guglielmo truppo calciomercato.com parmatoday.it è stato con noi per tutta l'estate soprannominato il dimarzio di parma non sappiamo se sia poi un complimento o meno per dimarzio buonasera con noi tutta l'estate adesso ce lo propini anche in autunno vabbè che non è ancora cominciato buonasera a una grande rappresentante del tipo crociato Ivo Dallabona presidente del parma club collecchio che tra l'altro si è presentato anche sul web con una rinnovatissima versione del proprio sito internet buonasera a voi aderente il parma club collecchio all'associazione parma club petito se mi permetti un secondo abbiamo aperto il sito quest'anno perché abbiamo in mente alcune cose importanti e per far conoscere anche poi la nostra attività comunque è www.parma club collecchio.it questo è il nostro sito che è già in vigore è già operante direttore leonardi prima di iniziare con il mercato riepiloghiamo attraverso due grafiche velocissime gli arrivi e le partenze insomma in modo da ricordare anche a tutti i nostri telespettatori i giocatori che sono entrati a far parte della rosa del parma quest'anno eccoli qua felipe pedro mendes cassani conè gargano obi acqua munari cassano o caca ci sarebbe anche iankovic ovviamente che per il momento è aggregato alla primavera però attenzione a questo giocatore è un mio particolare pallino l'ho detto più volte anche nel corso dell'estate attenzione a questo giocatore le partenze coda morrone strasser mariga ninis e bel fodil eccole qua sono questi giocatori che componevano la rosa dell'anno scorso direttore io la scorsa settimana e poi anche attraverso il telegiornale analizzando il mercato del parma ho dato un voto molto alto nel senso che secondo me la società ha veramente dotato l'allenatore di un organico non le faccio un complimento così per farlo altre volte mi sono permesso di fare delle critiche però ha dotato l'organico di un di un l'allenatore di un organico molto attrezzato e soprattutto molto ampio ho dato un voto 8 apriti cielo ho ricevuto mail messaggi su facebook su twitter di tifosi che mi diciano ma come si fa da re otto e manca il vice a mauri e sono talmente in tanti in quello spogliatoio che poi si prenderanno a cazzotti e hai visto cosa è successo nelle prime due partite di campionato 0 a 0 con il chievo 3 a 1 a udine io ho riepilogato in una grafica quelle che sono le critiche emerse dal mercato e magari poi partiamo da partiamo proprio da lì con lei per cercare di rispondere anche a alcune perplessità giunte non solo dal pubblico ma anche da alcuni critici da alcuni esponenti della stampa ad esempio c'è qua gabriele maio che ha detto ma perché cedere cipsa e magari puntare su gargano è stato uno di quelli vediamo se la regia ha pronta la grafica a cui facevo riferimento in modo le abbiamo le abbiamo sintetizzate le critiche al al mercato del parma ecco manca un vero vice a mauri tanti tifosi dicono ma palladino o caca sono veramente affidabili nel caso ci fosse da sostituire a mauri in maniera prolungata rosa troppo ampia magari ad una doni gli viene qualche giramento di testa età media troppo alta è una critica che è stata abbastanza ricorrente e poi perché cipsa al sassuolo giocatore di grande prospettiva è vero che abbiamo incassato però siamo andati a prendere gargano che è un giocatore davvero di esperienza però magari un po stagionato allora partiamo dalla prima direttore o da quella che la prima la prima è una cosa che mi è venuta spontanea tu sai la mia schiettezza e sincerità forse non sono abituati da parte tua di da tanti bei voti al parma magari non l'hai abituati troppo in un certo modo che se l'hai spiazzato a parte la battuta è come tale va presa per il resto è normale tanto alla fin fine io non non mi sono mai trasturlato o galvanizzato da da quello che sono le valutazioni di questi tecnici giornalisti o tifosi chiunque all'inizio né nella positività nella negatività perché poi alla fine quello che quello che conta è la linea finale quello che succederà alla fine del del percorso e dell'annata i giudizi secondo me più veri vanno dati inizialmente a dicembre e alla fine dell'annata perché hai il mercato di gennaio per eventualmente modificare qualcosa o migliorarti se riesci e poi invece alla fine dell'anno per dare un giudizio se quello che si è fatto si è fatto bene o no per quello che riguarda lo specifico beh noi devo rispondere una per una sì magari vediamo punto per punto che tipo di manca un vero vice a mauri secondo me invece secondo noi ce ne abbiamo pure troppi in attacco abbiamo cinque con uno potenzialmente che può farlo che abbia bianicca e sei più abbiamo anche cerri perciò siamo sette per ora con due posizioni potrebbero essere anche tre potrebbe essere anche una dipende dalla voglia noi abbiamo dotato l'allenatore di una rosa nel reparto offensivo con molta differenza di caratteristiche una dall'altra non dobbiamo mettere i vice dei vice i vice del titolare poi il vice del vice e dobbiamo mettere delle alternative questo l'ho detto al primo anno e sono venuto a palma a me non piace mettere un potenziale titolare l'alternativa che è come la caratteristica quale al titolare perché secondo me limitativo proprio nella volontà poi di modificarsi anche negli assetti nelle nelle confrontarsi con gli avversari magari sono più abituati a un certo tipo di strutture e se si rimette un altro che uguale e ce ne cambiamo poco cambiamo tanto per cambiare perciò siamo abbastanza convinti che quelli che abbiamo anzi dall'altro lato veniamo un pochino criticati perché sanzione trova poco spazio in attaccante questo significa quante dobbiamo prenderne cioè secondo me noi lì siamo 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 a posto c'è qualche domanda proprio sul punto da parte dei nostri opinionisti gabrile ma io sono abbastanza d'accordo col direttore a proposito del fatto che il reparto sia ben strutturato in questo senso probabilmente è vero che manca l'alternativa ad amauri fisicamente tolto che comunque c'è o cacra infatti appunto e quindi bisogna anche avere fiducia in questo giocatore che tra l'altro abbiamo appreso insomma avere anche un ingaggio abbastanza importante quindi anche giusto avere fiducia io su stadiotardini.it ho scritto che quello dell'attaccante è un finto problema per lo meno diamo fiducia a chi c'è fino a gennaio poi appunto c'è il mercato di riparazione male che vada se qualcosa non dovesse funzionare si può intervenire di attorno il direttore ha anticipato quella che è stata una delle critiche invece ricorrenti che noi abbiamo portato cioè quella come dire di un utilizzo fino a questo punto piuttosto scarso da parte dell'allenatore del giocatore Sansone che la società ha fatto un grande sacrificio a trattenere perché insomma il direttore con mago delle plus valenze ne stava per portare a termine un'altra abbastanza record con la cessione a Sassuolo che poi è saltata all'ultimo secondo e quindi se rimane un giocatore importante come è stato valutato Sansone è giusto che trovi spazio quando c'era chi invocava quagliarella io giustamente dicevo ma come andiamo ad inserire in uno spogliatoio già piuttosto ricco di personalità anche un quagliarella secondo me sarebbe stata una spesa inutile e siccome ho sempre cercato di fare il grillo parlante e la formichina piuttosto che la cicala secondo me tutto sommato il parma forse ha fatto anche troppo cioè se io do una valutazione leggermente più bassa rispetto alla tua che è un 6 e mezzo è perché tutto sommato forse si è anche esagerato prenda giocatori importanti di un certo tipo. Enrico sull'attacco tu sei soddisfatto oppure volevi floccari? No io voglio una cosa se Leonardo fosse il direttore di un rinomato ristorante ristorante a 5 stelle e comprasse ingredienti di primissima qualità e il cuoco gli confeziona per i clienti una minestrina insipida proprio poco saporita e poco altro. Chi è il cuoco? Il direttore Leonardo e il cuoco abbiamo capito chi è è una metafora sotto tutti i punti di vista per quello che è la sua esperienza per la sua professionalità per quello che ci dà quel valore in più anche come immagine per quello che è la gestione di un gruppo poi sentivo parlare che tutti sono preoccupati che abbiamo un gruppo che è fatto di personalità e io dico che devono giocare a calcio poi bisogna avere la forza e il carisma di gestirli perciò noi siamo convinti di poter gestire questo gruppo perché se no facciamo una squadra ai bravi ragazzi come sol dirsi poi dopo alla fine però rischiamo sempre di retrocedere cioè da questo punto di vista abbiamo timore per se tu ti riferisci a Donadoni è stato dotato di una squadra che per i nostri obiettivi penso che sia ottimale però noi siamo contenti e noi il percorso con Donadoni è un percorso importante nonostante più dicevano che Donadoni andava via Donadoni rimane con noi ha sempre volontà di rimanere dimostra più riprese di essere attaccata a questa realtà perciò l'unico dubbio che non ho anzi tra i pochi una certezza è Donadoni per il resto si può distruggere io se fossi l'ho detto pubblicamente io se fossi in Donadoni dopo che mi è stato fornito un organico del genere farei salti alti così ora però direttore bisogna cambiare marcia non so se dal prossimo turno perché l'avversario è forte però adesso abbiamo preso l'aperitivo poi adesso ci sediamo a tavola dopo le due giornate bisogna cambiare marcia tu è giusto che fai questo tutti quanti fate questo però noi dobbiamo guardare nell'obiettivo quello che è la durata dobbiamo giudicare è riduttivo giudicare da una partita da un episodio da un momento perché poi alla fin fine quello che conta è il percorso che si deve fare annualmente noi abbiamo avuto delle difficoltà ma non per giustificare una cattiva prestazione come io l'ho detto subito di Udine abbiamo avuto una preparazione specifica con un'impostazione di una nostra squadra e sono venuti a mancare due perni fondamentali di tutto il periodo dei primi quasi due mesi perché tolto l'ultimi due giorni di paletta e l'ultimi 15 giorni di galloppa cioè noi abbiamo impostato una squadra con un certo tipo di discorso e questo non è per accampare delle scuse però sono due giocatori importanti e perciò bisogna dar tempo adesso negli acquisti che sono stati fatti chiaramente sono arrivati due centrocampisti se fosse rimasto a posto Daniele non arrivava magari uno soltanto per completare quel tipo di reparto ne sono arrivati due e noi ci siamo ritrovati a dover giocare senza il punto di forza della difesa e senza è un centrocampo che probabilmente verrà rimodellato da qui a non dico con la roma non ho idea sarà compito del mister ma ma con due giocatori importanti che magari possono prendere tre posizioni due posti più importanti direttore intanto c'è lorenzo fava con con qualche messaggio subito quello messaggio per il direttore uno solo ne leggo lo scrive stefano a proposito della questione che ha sollevato enrico boni il problema non è tanto che compriamo potremmo prendere anche xavi ma alla fine l'allenatore fa sempre giocare parole valdes si è colombizzato purtroppo non potremmo comprare anche potremmo comprare anche xavi ma alla fine l'allenatore farebbe sempre giocare parole valdes dice che donadoni si è colombizzato vabbè prima di tutto dovrebbe un pochino io rispetto tutti rispettare un po di più pure colomba perché dal suo punto di vista mi sembra che vuol dire colombizzato colomba è stato un allenatore che per quello che è stato nel nostro periodo è stato determinante perciò va rispettato perciò non mi piace questo questo effetto diciamo così da dover screditare chi non c'è più non mi piace a me e dall'altro lato che cosa significa e questo signore ci dà se delle idee se ci date le idee su chi doveva giocare abbiamo preso due giocatori che non erano a disposizione fino adesso perciò poi vedremo e poi ciò nonostante valdes e parolo su due giocatori del parma questo significa che se uno è tifoso anche nel momento se può essere considerato di difficoltà rispettato tutti i nostri calciatori direttore solo una parentesi poi la parola ivo dalla buona paletta contro l'oro ma ci sarà visto che l'ha citato paletta c'è poco da dove non è una questione qui sembra sempre che nascondiamo delle situazioni lui ha avuto un infortunio che è che non è sul concetto sul muscolo ma è sul tendine perciò i tempi possono essere non calcolabili come quelli di un muscolo questo significa che bisogna avere pazienza a verificare per bene che sia a posto e non bisogna rischiare perché per noi è vero fuori classe della difesa abbiamo giustamente prima è stato detto abbiamo fatto un grande sacrificio il presidente con i soci hanno fatto un grande sacrificio a non fare delle plus valenze diciamo così annunciate ma quella di paletta fu eclatante a gennaio e proprio perché consideriamo come ho già detto all'epoca fui preso per uno che non era a posto col cervello quando dissi 35 milioni ma i 35 milioni volevo dire no al valore volevo dire il valore della serie a e poi da questo punto di vista quando viene a mancara e magari ce ne rendiamo conto con tutto il rispetto e la stima nei riguardi dei ragazzi che stanno giocando ora corgo l'occasione di pubblicamente di fargli invece gli auguri per la nascita del bambino e perciò magari nasce un nuovo paletta per il ricambio di quello che sarà che poi quei 35 milioni se andiamo a vedere la valutazione di marchigno sceduto al ps ci poteva anche stare non era quello il mio messaggio era la valore della serie a insomma ma è veloce che perché poi andiamo anche da ivo dalla buona ci sono tanti punti da sviscerare però volevo così scogliere al balzo alcune considerazioni fatte dal direttore diceva che se non immediatamente comunque in prospettiva potrebbe esserci come dire insomma una revisione del centrocampo ci diceva donadoni in conferenza stampa che gargano non è arrivato come sostituto di valdes ergo pensiamo che possa essere arrivato per uno degli altri due ruoli del centrocampo come come mezzala io non ho sentito quello che ha detto io dico soltanto come ho detto per gli attaccanti che a me piacciono molto i calciatori multifunzionali soprattutto nei reparti gargano può fare tutti i ruoli del centrocampo l'ha dimostrato nell'inter all'anno scorso faceva un modo giocava in un modo con la nazionale sta giocando un altro nel napoli giocava in un altro ancora questo significa che è multifunzionale obbi ugualmente è un giocatore che sicuramente obbi non può giocare davanti alla difesa ma è una mezzala sinistra ma per necessità ha giocato molto spesso anche da esterno perciò il tema secondo me la risposta dei donadoni è quella che non è che gargano viene per sostituire valdes capisco che qui ora c'è c'è sempre bisogno dell'orso del luna park no da quando cinque anni adesso qui c'è l'orso tutti tirano le pallate addosso all'orso e ora viene facile a dire con valdes perciò tanto è semplice in quanto proprio valdes è un carattere pure abbastanza chiuso che si fa gli affari suoi non risponde mai a nessuno sta bello e tranquillo perciò non twitta gli arrivano gli arrivano le pallate e lui deve sta zitto ma adesso però mi sembra veramente voi sapete che io vado sempre a difesa di quelli che nel momento sono più deboli da questo punto di vista mi sembra che la causa di tutte queste cose sia di una sconfitta di un pareggio sia di valdes proprio per questo motivo io invece tutelo il patrimonio del parma anche con valdes e dico che valdes può giocare tranquillamente con gargano e gargano può giocare anche al posto di valdes cioè queste poi sono valutazioni che vengono fatte allenandosi tutti i giorni stando lì ore e ore valutando tutta una serie di cose e se l'allenatore ritiene giusto far giocare cargano con valdes che lo faccia come ha sempre fatto nella sua autonomia certo che avete trattato fino in ultimo però al calcio mercato che cosa valdes di cessione ma non cessione questa è come la storia allora questo con questo criterio ma non perché voglio smentirci e anche bia bianini l'abbiamo trattato fino all'ultimo è da due mesi che scrivevano che era vicino a juventus non ce l'ha mai nemmeno parlato così come valdes mi trovavo di doloni che doveva andare al torino e poi dopo col torino non c'è stato nemmeno dubbattuto non vi siete parlati no perché a vedere queste televisioni queste sembrava che fosse qua queste televisioni qua non l'abbiamo mai detto ma io non so delle televisioni si parla però nazionali o cioè il di marzo quello vero non quello finito li lasciamo perdere perché poi dopo si parla del parma soltanto quando si devono dire delle cose che non sono buone nella realtà perché di bia bianista ho detto tante tante stupidaggini che poi alla fine creano anche delle turbati e magari a me non mi è risultato però magari inconsciamente anche ai giocatori stessi io dalla buona io se permettete penso che nel complessivo quello che ha fatto il parma quest'anno a livello di compravendita prima qualcuno ha espresso dei giudizi anche che a livello di voti non entro nei voti perché non sono un tecnico e non mi prego ma dallo pure e non siamo scuola e ci siamo stati ma vecchi tempi no dico che il mio pensiero è questo che siamo solo all'inizio come tutti gli anni non vorrei che fosse la solita la solita manfrina che fare che facciamo un po tutti no questo non solo da dai addetti ai lavori ma anche noi da noi tifosi o sportivi o sostenitori perché dopo due giornate effettivamente il parma ha sempre fatto ultimamente delle partenze un po lente questo è fuori di dubbio ma non perché il parma vuoi partire piano perché il parma ha calcolato alcune cose che giustamente cambiando alcuni soggetti in questo in qualche reparto qualche problemino ci può essere questo è fuori di dubbio però dico che a lungo andare questa squadra secondo me è equilibrata equilibrata nel senso che ha avuto la società il coraggio di investire su giocatori che altri non hanno avuto il coraggio perché senza far nome perché non mi ha dentro però dico che alcune altre società avevano puntato su a giocatori che il parma aveva in mente di comprare li ha comprati vuol dire che la società ha lavorato bene in questo senso senza fare il solito sviolinaggio che non è il mio carattere però dico aspettiamo un attimino e vediamo un po quello che sarà il futuro un secondo poi finisco la mia domanda a leonardo è questa non ci siamo più visti dall'anno scorso perché è passato il tempo le ferie robe varie c'è stata quella quella grande operazione di del mostro cassano per me un mostro nel senso di giocatore dopo lasciamo stare ognuno il nostro carattere ognuno di esprimersi o di agire però dico il ruolo che dovrà trovare e questo torno in ballo anche un po il discorso di di doradoni il vero non problema ma sarà risolvere quello che dovrà fare cassano da grande a parma a livello di regista dietro alle punte secondo te quindi c'è un problema di collocazione nella squadra di cassano perché visto che non siamo ancora entrati in merito su questa su questa discussione perché poi penso che ci entreremo io sono io sono della filosofia cassano più altri dieci ma ci mancherebbe io sono di quella filosofia lì quindi per me però cassano è un genio come avevamo morfeo una volta il genio sregolatezza questo magari è un genio un po meno sregolatezza però dico è sempre una da domare coi dovuti modi ho finito allora diretto ci torniamo dopo siamo in pubblicità me l'ho confermato allora ci riprendiamo da qua prima un sms un commento da facebook quello che vuoi punto it scrive gabriele sono moderatamente soddisfatto in quanto al mercato fosse arrivato all'ultimo maxi lopet lo sarei stato ancora di più un'altra punta di spessore ritengo infatti che sarebbe servita parecchio allora no è moderatamente soddisfatto avrebbe desiderato gradito una un'altra punta un'altra punta di spessore però allora andiamo in pubblicità poi ripartiamo da qua dalla considerazione su cassano e poi proseguiamo anche sugli altri punti critici che sono stati rilevati sul mercato del parma tra pochissimo pronti partenza pala kart a parma in via mantova c'è pala kart pista go kart elettrici veloci e sicuri sulla pista del pala kart di parma puoi vivere le emozioni che solo il mondo dei motori può regalarti curve spettacolari staccate al limite e grandi accelerazioni adrenalina e divertimento per tutti adulti e ragazzi aperto tutti i giorni il venerdì e sabato fino alle due di notte se vuoi sfidare i tuoi amici in una corsa elettrizzante all'ultimo respiro vieni a trovarci o prenota la pista allo 0 5 2 1 27 20 68 quando il divertimento si fa vincente jackpot las vegas nuove sale slot e videolotteri a ponte taro di parma ea parma in via emilio lepido scommettiamo che ti diverti gioca senza esagerare il gioco può creare dipendenza look personalizzati tagli d'avanguardia spa trattamenti e colori innovativi make up personalizzato consulenti d'immagine per ogni evento ed ogni età visita il sito www.personalitaairstyle.it e scopri i vantaggi delle nuove promozioni linea trucco marca visioni make up pacchetto total look taglio personalizzato studio della fisionomica e stile pacchetto sposi e tante altre curiosità vi ricordiamo che le nostre tessere fedeltà non hanno scadenza personalità air style di morgan e di nuovo in diretta spazio ancora i nostri telespettatori attraverso internet attraverso gli sms messaggi allora luca scrive il parma fatto un ottimo mercato grandi gargano e obi che metteranno finalmente parole valdes in panchina unica pecca l'attacco inconcepibile verrà ancora o caca in rosa poi rivolgo una domanda al direttore leonardi ospite in studio o meglio lo fa un altro luca che ci scrive dice buonasera volevo sapere dal direttore se è vero che la trattativa con maxi lopez è saltata per il rifiuto di stefano caca di andare a catania ma questa è una trattativa che l'ho sentito a mezz'ora dalla fine io non nemmeno parlato con caca cioè non c'è non c'era nemmeno un motivo di parlare ma poi ritorniamo sempre lì e con questa risposta rispondo anche alla sollecitazione spero che si senta allora il discorso degli attaccanti non capisco veramente per quanto mi riguarda poi magari hanno ragione tutti ma se noi consideriamo a mauri cassano dei giocatori importanti come li considerano tutti quanti poi ci abbiamo sanzone poi ci abbiamo palladino che quest'anno è partito col piede giusto poi ci abbiamo sanzone palladino caga per caratteristiche noi confiniamo molto uno caga poi magari sbagliamo io vorrei riavvolgere il nastro quello che si sentiva di pelle qui era ancora peggio di caga c'è qualcuno che lo rimpianti ah ecco ok però 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 no finisco poi la collocazione di di questo lo tengo in mano forse è meglio la collocazione di di cassano cassano è un attaccante l'ha detto a più riprese e cioè io non mi meraviglierei di vedere giocare cassano anche insieme con sanzone di vedere giocare cassano con con palladino perché l'allenatore non è che ha timore di far questo l'ha dimostrato per lui non è molto importante la struttura ma il saper giocare in un certo modo perciò io ritengo che la collocazione di cassano è molto semplice cassano è un attaccante e si giochi con due attaccanti con tre attaccanti non ritengo corretto considerare cassano né lo considera non lo ritiene corretto lui né l'allenatore né io quando si è deciso di prenderlo come uno dietro le due punte perché non è il ruolo di cassano cassano è un attaccante poi consideratelo come volete però per noi è un attaccante direttore sa perché suo cacca ci sono tante perplessità anche da un certo punto di vista quelle del sottoscritto perché ho cacca che peraltro ancora molto giovane va al Brescia e al Brescia non sfonda torna alla Roma alla Roma trova poco spazio viene mandato al Modena o al Bari in serie B ha fatto mezza serie A col Bari e non sfonda ritorna al Parma niente viene mandato a Spezia per un campionato anche lì a fatica con una squadra che ci salva a fatica ritorna a Parma e uno dice ma come questo fa? questa è l'obiezione l'importante è che ci crediamo noi io nasco a Empoli e crescevo in certo Toni non si sapeva più di metterlo e questo era quando c'ero io feci l'operazione in prestito di Toni al Fiorenzuola e poi non sapevano dove mandarlo poi è andato all'Odigiani poi cominciò a girare e iniziò a segnare dopo un po' di tempo Pellè l'anno precedente al ritorno a Parma era stata a Genova con la Sampdoria era una squadra molto più altisonante dello Spezia con tutto rispetto per lo Spezia aveva fatto 4 gol di cui 2 in una partita soltanto Okaga nelle opportunità che gli sono state date ha fatto qualcosa ma l'importante è che ci crediamo noi se noi intravediamo delle potenzialità Okaga è stato in Inghilterra ha fatto un'esperienza nel giro nel ritorno col Fulham mi sembra che ha fatto 5 gol nelle prime lighe ha delle qualità è sicuro che deve crescere ne siamo convinti però è un nostro patrimonio è un giocatore di nostra totale proprietà ancora un 89 e sappiamo che gli attaccanti di struttura vengono fuori sempre un pizzico di ritardo in confronto agli altri Enrico ecco vai poi passiamo al secondo punto io a differenza tua sono preoccupato sono preoccupato perché io a Leonardo voglio bene voglio bene nel senso letterale del termine io non è che sia contento io gli voglio bene nel senso letterale del termine io giudico positivamente il mercato poi ho detto dal mercato bisogna passare al campo allora volendo bene a Leonardo da qui nasce la mia preoccupazione e io gli chiedo conferma perché questa è la sua quinta stagione e io credo e gli domando se la pensa così anche lui ho paura che questa sia la stagione più difficile delle cinque la quinta delle quattro precedenti è vero? può essere vera questa opinione? secondo me sono tutte difficili non di più questa? no ma penso proprio di no per un motivo molto semplice perché io non sono mai partito che una delle stagioni era facile almeno mi possono rimproverare di tutto ma mentre tutti gli altri si mettono a strombazzare io ho sempre detto che il campionato di serie è complicato però l'asticella l'abbiamo alzata stavolta chi l'ha alzata? l'asticella ma chi? chi voi che fate notizia? tutti noi perché voi giustamente fate notare tutti io parlo tutto quello che succede nel Parma ma trascurate un attimo quello che succede da altre parti oggi ci avete avuto io non ho avuto modo ancora di leggere avete avuto modo di leggere quello che scrive un giornale autorevole come la Gazzetta dello Sport vedete le rose ditemi se è in campionato facile cioè secondo me bisogna rendersi conto di quello che accade che vuol dire l'asticella più alta significa che il Parma deve migliorare quello che ha fatto l'anno scorso e non è semplice partiamo da questo presupposto e poi cominciamo punto di forza della difesa non sta giocando e perciò ce l'hai in meno avevamo tutti e obiettivamente ci eravamo resi conto e dovevamo migliorare il reparto ma non per mancanza di di tutti quello che dicono adesso tutti contro Valdez contro Parolo poi non ho capito perché sta sta voglia così vabbè comunque ognuno che la veda come vuole ma siamo andati a fare un mercato aspettando il momento opportuno perché io ti faccio una constatazione Gargano al primo di luglio non lo prendevi ok e se tu hai l'obiettivo di prendere Gargano devi aspettare l'ultimo giorno o quasi Hobbi noi avevamo iniziato a chiederlo all'Inter dai primi di luglio e non veniva fin quando l'Inter non ha fatto l'acquisto di Tider la possibilità di spostare Gobbi non c'era allora o ti accontenti all'inizio di giocatori che ritieni almeno noi li ritenevamo inferiori a quelli che abbiamo preso e questo non è giusto oppure abbiamo dovuto assemblare un reparto in ultimo ok tutto ciò questo che cosa significa significa che poi con una mancanza di un punto fermo che quest'anno era partito pure bene ma soprattutto nella partita sfortunata aveva fatto un primo tempo quasi tutto il primo tempo perché non si fa male galloppa a livello e viene a mancare anche galloppa questo significa che poi dopo mi viene facile abbiamo rigiocato con lo stesso centrocampo dell'anno scorso grazie galloppa si è infortunato i due che abbiamo comprato sono arrivati ora e dovranno pur giocare quelli che c'erano l'anno scorso ma penso che siano non di poco ma di molto all'altezza per poter fare quelle partite che serviranno da dover fare insomma ecco perché però non capisco perché dobbiamo alzare a Sticelli e abbassare noi sappiamo noi sappiamo siamo coscienti di quello che ci appartiene in questo in questo campionato lo sappiamo poi se gli altri io non è sembra sempre che non voglio far sa perché non voglio la critica se io dico l'Europa League se non dico ma scusate ma vedete un attimo quello che sono gli allestimenti cominciate a contarne 5 e vedete che ne contate 7-8 come possiamo noi andare a dire che facciamo l'Europa League per fare l'Europa League bisogna fare un miracolo noi e do uno sbagli a 3-4 squadre che spendono l'ira di Dio ok che cosa significa l'Europa League no però diciamo lottare quelle posizioni lì dietro ma l'abbiamo fatto per 4 anni è tolto un anno dove abbiamo rischiato di brutto mi sembra che questa squadra qui si è sempre collocata nella parte sinistra del campionato e se non c'è arrivata non c'è arrivata pure nell'anno particolare siamo arrivati mi sembra dodicesimo benissimo perciò significa che ne abbiamo messo 7-8 sotto non è che siamo arrivati in questi 4 anni ma una volta al quarto ultimo posto non mi sembra questo è quello che stiamo cercando di rifare anche quest'anno ci auguriamo che questo qui sia un anno che possa far togliere delle soddisfazioni ulteriori magari con prestazioni ancora più importanti per questo quando pure noi parliamo di 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 fare delle buone partite di giocare a calcio in un certo modo non è perché vogliamo fare fenomeni è solo perché magari se viene il pubblico viene i tifosi e ti vedono pure in un certo qual modo esageratamente Sparagnino non ti giochi nemmeno le partite dopo allora l'obiettivo di andare in Europa è complicato anzi impossibile non meno ti diverti stare lì Sparagnino a lottare su ogni palla cioè è difficile poi divertirsi è tutto qui il motivo non è che ci sono dei motivi che dobbiamo fare gli inventori del calcio insomma non ce l'abbiamo ste bellità allora subito voce ai nostri tifosi su Facebook se non sbaglio e poi andiamo anche al secondo punto quello della rosa troppo ampia allora a proposito di quello che diceva lei prima direttore che aveva intavolato il discorso sul centrocampo Filippo Melegari scrive che il campo il centrocampo è praticamente lo stesso dello scorso anno ed esprimeva poca fisicità e questo saltava all'occhio allora Filippo Melegari le rivolge due domande come mai adesso che il Parma è un po' cassano centrico non si è ovviato a sopprire a questa fisicità e poi con l'arrivo di Obi Gargano si passa ad un modulo senza regista? questo è lo stesso che fa la domanda ma lui è rimasto indietro io faccio battute 15 giorni fa Obi e Gargano che fanno? cioè Obi e Gargano sono due giocatori che hanno quel tipo di caratteristica secondo me si risponde da solo quando lui dice come mai non si è fatto questo e l'abbiamo fatto e poi con Obi e Gargano per solo ammette perché se non fa la seconda domanda magari posso immaginare che era rimasto 15 giorni prima che non sapeva che c'erano stati due acquisti invece direttore è d'accordo con Giovanni Danoceto che dice che il Parma potrà essere la sorpresa del campionato non c'è una questione ma è una questione proprio nemmeno scaramantica questi sono i fatti che diranno se tutto quello che giustamente si fa nelle trasmissioni nelle cose danno voti il mercato fatto bene il mercato fatto male siamo alla sorpresa o non alla sorpresa il Verona ha vinto la prima di campionato col Milano poi magari non glielo auguro perché non auguro nessuno perdere tre partite di fila alla fine di quella settimana era la sorpresa poi che succede noi dopo queste due partite ci dicono tutti che dobbiamo cambiare tutto poi magari facciamo due o tre risultati importanti e dicono che c'è la sorpresa a questo punto io ritengo che bisogna pazientare essere un attimo con calma non lo so dico la verità io non lo so io sono come sempre come diceva l'amico Boni qui questo è il campionato più difficile sì sarà come dice lui io dico che sono tutte le volte sempre preoccupato e difficile li ritengo fin quando non vedo in campo vorrei vedere la squadra a completo avrei il gusto di vederla allora andiamo a vedere il secondo punto adesso andiamo magari un pochino più rapidi lo abbiamo messo in grafica abbiamo detto manca un vice a Mauri direttore ha risposto altra critica che è stata mossa rosa troppo ampia e associamo i due punti di età media troppo troppo alta poi sull'affollamento c'è anche il discorso del centro campo c'è una domanda che voleva fare Guglielmo Truppo direttore non è che lì avete già allargato visto che avete fatto dei lavori a collegio avete già allargato i spogliatoi ma qui mi sembra che ogni volta che si parla di collegio quasi che dispiace se facciamo lavori dovreste essere contenti voi io non so quanto ci rimango nel Parma mi auguro più a lungo possibile ma è qualcosa che rimane di patrimonio alla società e qui se andiamo a ritiro non dobbiamo stare a ritiro lì perché faceva caldo eh sì faceva caldo perché invece stavi te faceva fresco allora voglio dire ma non dobbiamo un attimo tutelare quello che è un qualcosa che appartiene cioè è come che io apro un ristorante poi vado a mangiare fuori perché sta un po' più fresco da un'altra parte cioè questo è un patrimonio del Parma è un sacrificio enorme che la Presidente ha fatto dobbiamo avere anche soddisfazione di questo e stiamo abbellendolo ancora di più è diventato un qualcosa di eccezionale ecco su questo apro la parentesi chiudo non c'è nessuno che c'è un centro come il nostro in Italia nessuno a nessuno allora di questo io penso che tutti devono essere orgogliosi nessuno ha la completezza che c'è ora con l'ecchio che ci sarà con gli ultimi interventi riferito alla Rosa anche qui era una battuta ecco sì sì riferita alla Rosa anche qui non devo rispondere io aprile il giornale avete visto le rose guardate quante rose inferiori al Parma allora il problema è a monte il problema è che se in serie B si dice che c'è il salario più c'è la lista bloccata per partecipare al campionato in serie C ripaga tutto l'ingaggio ma dove vanno cioè o noi ci assumiamo dei becchini che fanno poi li mettono sotto tiro o dove vanno guardate che poi dopo in serie A se io ho 26 giocatori o 27 ognuno può fare i conti che vuole e lui ce n'ha 27 e sì io posso arrivare a 25 ma lui sempre a 27 ritorna perciò è che lo scambio delle figurine il problema è chiaramente un problema determinato da un regolamento da delle regole che non funzionano più che nessuno se ne vuole rendere conto il mercato in Italia per un problema economico e strutturale di regolamenti non esiste allora a questo punto se io devo faccio un esempio come società convincere la mia proprietà a dar via un giocatore poi lo devo pagare totalmente giustamente dico ma lo tengo qui mi può essere pure utile perché lo devo dar via tanto perché così tutti i tecnici tutti quelli che stanno gli dice abbiamo la rosa perfetta che se la giochino che facciano battaglia in allenamento perché la preoccupazione dei tifosi magari è proprio quella non è che poi uno che sta fuori inizia a mugugnare a rompere le scatole nello spogliatoio e io non gioco io sono della teoria lei prima ha fatto un riferimento io sono della teoria di Corrado Rico il vecchio allenatore che diceva i bravi ragazzi li faccio sposare alle mie figlie ma preferisco averli nello spogliatoio preferisco avere nello spogliatoio quelli un po' battaglieri vado a fare invece la domanda Ghirardi che ci mette del suo a pagare tutti ogni fin del mese quello mugugna perché gioca Ghirardi invece che lo deve pagare e sta sempre in tribuna vediamo chi è più più arrabbiato di questo cioè mi sembrano dei falsi problemi secondo me eh sì Gabriele Maio poi Guglielmo Truppo sì no a proposito di quello che era il terzo punto che abbiamo accorpato bisognerebbe spiegare ai telespettatori questa metamorfosi diciamo così della sua filosofia nel senso l'abbiamo sempre conosciuta non soltanto a Parma ma anche altrove come grande scopertore di talenti insomma giocatori così anche di di prospettiva che potessero crescere e quant'altro mentre il mercato di quest'anno è stato fatto principalmente su giocatori tra virgolette finiti non finiti nel senso che hanno finito quanto che sono già completi è un discorso un po' diverso rispetto al solito in tanti infatti dicevano ah ma dove è finito il progetto giovani allora rispetto all'anno scorso avete cambiato diciamo filosofia noi l'abbiamo interpretato come dire come una voglia di arrivare alla fine di questa stagione che è particolare un po' per tutti perché il centenario un po' meglio rispetto all'altra volta cioè niente esperimenti per una volta avete cambiato in questa prospettiva come mai perché effettivamente è un mercato molto diverso rispetto ad esempio quello dell'anno scorso il quale è stato propedeutico se vogliamo quello di quest'anno perché con delle scommesse vinte tipo Belfodil avete potuto prendere Cassano bene chi ha mai detto che volevamo fare un progetto giovani domanda io ho mai parlato ho detto sempre per esempio e nessuno mi ascolta che non c'entra niente il nostro progetto con quello dell'Udinese per me non c'entra nulla mi sono reso conto di quello che è Parma tiro le mie conclusioni non è che devo per forza esternarle nella completezza e dico che la maturazione e lo sviluppo di quello che è giovani l'abbiamo fatto invece tantissimo perché abbiamo comprato dal 94 al 98 forse 50 giocatori perché poi quando si prendono per rapporti con rapporti per valorizzazioni per prendere anche degli altri giocatori con dei meccanismi estremamente virtuosi e sempre si comprano perciò il Parma ha investito tanto il presidente Chirardi per questi 50 calciatori ha speso tanto allora il principio è molto semplice ci si è resi conto che qui non c'è pazienza cioè qui ci si dice che Okaka non va bene va bene Maxi Lopez allora qual è la contraddizione la mia o di quelli che esternano questo cioè scusate Okaka già non va bene perché ci vuole Maxi Lopez giusto? siamo coscienti ha preso atto di questo perciò io ho sempre detto dopo poco quello che succede a Udine qui non si può fare cioè lei dice a Udine c'è una piazza più paziente che aspetta di più i calciatori c'è proprio una voglia di cambiamento e c'è un altro aspetto fondamentale mentre qui il calciatore riceve delle offerte con dei compensi molto ma molto più importanti di quello che è il Parma ma vuole restare al Parma a Udine non vedono l'ora ad andare via cioè a Udine c'è questa cultura che ed è una cultura determinata perciò non è che sto parlando male fatta proprio per scovare crescere e vendere ok e ormai in quella cultura si è inserito anche il pubblico il pubblico dopo tolto totò di Natale tutti gli altri dopo due o tre anni vogliono vede facce nuove e perciò c'è una cultura diversa questo non voglio dire che Parma ha una cultura sbagliata ha un'altra tipologia il tifoso vuole vedere altre cose il tifoso se pareggi col Chievo è disturbato ok e magari ti arrivano queste situazioni qui e noi abbiamo preso atto di questo dobbiamo non trascurare un aspetto importante che gli esperimenti vanno bene ma se poi falliscono gli esperimenti il dazio di essere andato in serie B deve rimanere in testa tutti quanti perciò significa avere la certezza della categoria intrattenere e creare una tela di rapporti con delle società tipo Nova Gorisa e Gubbio e poi con tante altre società perché possano questo permettere di far crescere questi giovani per riportarli al Parma quando sono pronti da Parma oppure venderli anche direttamente come è successo per esempio con Pellè Pellè è andato a Feia nonno in prestito e poi è stato ceduto Borini idem e ne possiamo fare davanti di altri esempi Guglielmo Truppo Io mi volevo associare un attimo ai voti alti di Michele e riprendere perché a me il mercato del Parma è piaciuto e riprendere un attimino due discorsi uno che riguarda l'attacco ma veloce e un altro che riguarda il centrocampo vorrei sapere cosa vi ha frenato magari a cedere Sansone e poi l'altra domanda come sta Obi perché lei ha detto che è un giocatore polifunzionale può ricoprire più ruoli spesso è stato impiegato all'esterno come esterno nell'Inter come le sue condizioni fisiche più o meno Allora per quanto riguarda l'attenzione non è che c'è uno che frena è arrivata un'offerta da parte di una società un'offerta che era vantaggiosa da un punto di vista perché poi bisogna tener conto del contenuto economico non tanto della squadra che lo rappresenta il Sassuolo ha una potenzialità di poterlo fare e perciò ha fatto la sua offerta cosa che poi ha fatto anche per altri giocatori perché in ultimo ha comprato dei calciatori nella valutazione delle cose anche qui il margine di rischio rapportato all'incasso determinato da una plusvalenza vera perché il Sanzone è arrivato a parametro zero al Parma ha fatto sì di fare una riflessione congiunta vedere anche l'umore del calciatore l'umore dell'allenatore e l'umore di tutti fin quando abbiamo organizzato un incontro definitivo insieme col Presidente perché poi alla fine l'ultima parola spetta al Presidente e abbiamo deciso di comune accordo di mantenere rischiando e questo è come quello che può essere che posso dire quello che fa il gioco al Casinò c'era arrivata un'offerta sì importante ma noi abbiamo considerato io per primo che conoscendo il mercato questa offerta poteva migliorare può migliorare con il valore di Nicola e sono convinto che oltre questo non so avere la speranza di venderlo possa migliorare quello che è la prestazione all'interno del contesto di questo campionato del Parma e da qui è scaturita la voglia di non indebolirsi ma nello stesso tempo perdere qualcosa abbiamo una telefonata in diretta ci scusiamo se abbiamo fatto attendere il nostro telespettatore pronto buonasera 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 a lei il suo nome Carlo Carlo benvenuto da Collecchio prego senta io adesso sto sentendo qui il signor Leonardo io dico che il signor Leonardo e il signor Girardi dovrebbero rimanere nel Parma ma per tanti anni perché sono stati gli unici che hanno fatto dei lavori belli oltre questo voglio dire siccome io ho già una certa età e mi ricordo quando ho stato il derby con il suo secondo non vorrei che andiamo indietro però non vorrei che un domani il giocattolo si roppesse e a questo punto può andare in B e poi chissà ci sono tante strade ecco e allora io direi che quegli spettatori questa gente che criticano una cosa o l'altra queste cose forse non le sanno io spero che questo giocattolo non si rompa bravo Leonardo e un bravo a Girardi grazie grazie Carlo arrivederci grazie no no ma il giocattolo il giocattolo insomma non si rompa ci mancherebbe in Serie B ci facciamo andare delle altre squadre Maio io volevo tornare sull'affermazione che ha fatto il direttore a proposito dell'acquisto di questi 40-50 giovani più interessanti pescati nelle serie inferiori tutto questo rientra in questa sorta di maxi operazione di mercato è stato un mercato frenetico e ha proprio attirato l'attenzione anche di un giornale come Repubblica che ha parlato di sistema scientifico di pesca strascico ed effettivamente insomma riuscire a controllare tanti giovani può diventare interessante e quello che non capisco però di questa serie di operazioni è stato così l'acquisizione di alcuni over 30 perché sono arrivati anche di giocatori tra virgolette maturi mandati poi ad altre squadre questo cosa potrebbe significare perché certi giocatori oltre a 30 anni non li vedremo mai a Parma e quindi non credo che rientri in quel ragionamento della quantità per la qualità è molto semplice nell'ambito della collaborazione con alcune società dove c'è la possibilità di avere una serie di rapporti si sfruttano questi rapporti utilizzando anche giocatori che possono essere presi e spostati perché questo faccia sì di poter prendere da quella società che gli risolvi il problema di quel giocatore prendendo il giovane e senza andare ad attingere a fare degli acquisti attraverso degli acquisti nella naturalezza delle cose perciò leggevo da più parti che noi attraverso tutte queste operazioni abbiamo fatto un'enormità di plusvalenze e questa è la più grande boiata che si poteva dire questa è una boiata perché proprio per questo motivo noi non abbiamo fatto assolutamente acquisti tramite i bolli famosi federali perciò ci sono tutti i valori di questi ragazzi che arrivano in una maniera importante al Parma a costo quasi zero o con il carico del costo che è figlio del trentenne o che è figlio di una collocazione del nostro giocatore nelle loro squadre pagando la differenza di quello che sono le problematiche che dicevo prima perciò l'intuizione qual è stata quella di sistemare dei nostri calciatori o degli altri calciatori all'interno di campionati inferiori dove ci sono dei limiti ben precisi regolamentari e però dare il valore di quel costo che sostiene il Parma ritirando dei calciatori giovani questo è c'è niente da nascondere non c'è niente da dover dire però siccome un po' dopo ognuno se ne inventa c'è sempre qualcosa di chissà che cosa di losco non so per quale motivo però noi abbiamo fatto questa operazione poi che ne so il tempo di Rass abbiamo fatto un'operazione sicuramente se andai contro tendenza e io la contro tendenza ho sempre creduto nel calcio quando era Udine che tutti ci dicevano che compravamo solo stranieri e tutti erano andati a cercare di imitarci con gli stranieri abbiamo detto vogliamo fare una contro tendenza e da lì è partito è arrivato prima di Natale poi Pepe poi D'Agostino e poi tutta una serie di giocatori che poi è transitata per la nazionale allora se uno sposta l'obiettivo magari viene marcado è come l'attaccante che si gioca sempre nello stesso modo capito per quanto riguarda Giorchera è stato il giocatore che ha chiuso posso stare Giorchera ma io ma Giorchera ma chi se ne frega di Giorchera posso dare ragione a Enrico Boni posso dare ragione a Enrico Boni scusate la scorsa trasmissione abbiamo chiuso dicendo che era l'ultimo acquisto tra virgolette del Parma in contemporanea il direttore stava spiegando altrove il significato di questa operazione possiamo far capire anche i nostri telespettatori trappena risposto possiamo far capire ai nostri telespettatori il senso dell'operazione Giorchera sono curioso saranno curiosi anche da casa partiamo da un presupposto che noi no ma prima di tutto non è giusto considerare i giocatori in questo modo perché per me Giorchera per esempio è un giocatore molto forte magari è un fenomeno ma il tifoso del Parma adesso non è preoccupato di Giorchera il tifoso del Parma è preoccupato che c'è la Roma e dopo la Roma c'è il Catania e dopo il Catania c'è cose la squadra ancora non decolla e poi io ho la domanda che io la devo fare ho capito devo rispondere a questa cosa qui ma sì due secondi poi parliamo direttore chiariamoci Giorchera poi c'è uno che a proposito del discorso di Ocaca ci chiedono invece se avete messo nel mirino degli svincolati ma risponde dopo al telespettatore ci basta allora Giorchera poi Enrico Boni e poi allora Giorchera è un giocatore che per caratteristiche per un certo tipo di gusto di calcio a me piace tantissimo trequartista ma trequartista è una cosa un po' particolare a me piace anche in altri ruoli però voglio dire questa è un'idea mia parto da questo presupposto perché Giorchera fa parte di quel tipo di giocatori che all'epoca quando andai a prendere Sanchez Isla e tutta la storia lì dei Cileni Giorchera era tra i più quotati poi è andato a Genova probabilmente è andato dentro un vortice di un periodo particolare siccome si è liberato io ho fatto un'operazione a zero ho preso il giocatore se magari mi arrivava qualche offerta per i nostri da poter cedere lo inserivo subito se no c'era già la squadra pronta che non vedeva l'ora di prenderlo ma Giorchera al 99% farà parte della Rosa del Palma del prossimo anno così almeno le medie si abbassano non rischia di essere andato però in una squadra cosa su Giorchera che il direttore non lo può dire perché ovviamente non lo può dire lo dico io il direttore l'ha mandato in Turchia per rieducarlo perché Giorchera che posso essere d'accordo anche che è un buon giocatore gli piace anche la dolce vita allora prima di portare no 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 questo lo dici tu è certo che lo dici tu prima di portare a Parma uno che lo sanno a Genova ama la dolce vita cosa c'è di meglio che mandarlo in un paese musulmano così lui sta là un anno o due si rieduca si mette tranquillo e se merita lo riportiamo a Parma piuttosto io volevo chiedere a Leonardo una cosa allora Cassano è stato acquistato per due motivazioni la prima motivazione squisitamente tecnica e i fatti ci stanno dando ragione perché si vede che il giocatore non si può discutere la seconda motivazione di immagine direttore abbiamo Cassano sono quasi tre mesi che qua lo tenete in una tecca di vetro i bambini vanno al museo a Parma e vedono Cassano in una tecca di vetro Cassano è un patrimonio anche perché si chiama Cassano non solo perché gioca nel Parma e gioca bene giocherà anche meglio quindi ed è un appello che le lancio spendiamolo un po' di più mandiamolo negli asili mandiamolo nelle scuole mandiamolo nei parchi mandiamolo in strada e soprattutto mandiamolo anche in televisione non possiamo tenere Enrico teniamolo piuttosto che nelle scuole è meglio forse dentro il campo no nelle scuole ti spiego il perché brevissimo perché a me i tifosi dicono io voglio Cassano voglio portare i bimbi da Cassano perché Cassano gli faccia una carezza come faceva il Papa Buono va bene le scuole ancora non sono aperte perciò questa critica diciamo almeno diciamo altro come vi hai detto prima dove mandiamo al parco lo mandiamo un giro per la città allora partiamo da un presupposto Cassano è stato preso non per una questione d'immagine partiamo da questo Cassano deve fare il giocatore di calcio ok e per fare il giocatore di calcio ha bisogno dei suoi tempi dei suoi recuperi e Cassano ha dimostrato quest'anno già dall'inizio di aver fatto dopo qualche anno una preparazione di come si deve tanto è vero che è in una condizione molto ma molto buona e proprio per questo motivo qui deve fare il giocatore di calcio cioè il discorso che dobbiamo fare a Cassano diciamo il punto di riferimento allora smettiamo e marketing ma lasciamo perdere il marketing e poi il marketing bisogna vedere che produttività c'è poi andiamo a spenderci delle risorse inutilmente Cassano deve fare il suo lo sta facendo con il rispetto di quello che è Parma è il Parma e soprattutto dobbiamo partire da un presupposto fondamentale che noi non abbiamo assolutamente voglia di enfatizzare in qualcosa che è normale che è naturale perché dobbiamo andare altrimenti invece di fare il Parma facciamo una volta quando ero bambino io ragazzo c'era l'Arlem Grubbetrot e li portavamo in giro li facciamo si divertono stando lì noi dobbiamo giocare e il caso vuole dico il caso e anche un po' di preoccupazione vuole che in due partite noi non abbiamo vinto abbiamo perso secondo me meritatamente nonostante l'arbitro contro l'Udinese e non siamo riusciti a vincere col Chievo perciò le passarelle magari le facciamo a fine anno e vedremo quello che deve succedere adesso io non ho tutta questa voglia abbiamo fatto già tanto Cassano abbiamo fatto una prestazione in grande stile abbiamo fatto in piazza abbiamo messo le maglie in vendita c'è stato un risultato importante basta perché altrimenti tutto fa e non fa il giocatore in tv in tv ma dove quale tv qua la numero uno ma se ha faduto questo discorso voi mandatelo in trasmissione una volta anche per quello a proposito di Cassano allora chiudiamo con due sms poi pubblicità poi riprendiamo a proposito di Cassano Andrà Spoggi scrive sulla pagina di facebook di Teleducato Parma a me la coppia Cassano a Mauri che Donadoni è obbligato a mettere in campo non piace per niente perché arriveranno a 10 gol in due e abbiamo centrocampisti che non segnano poi direttore le rivolgo una domanda che ci scrive Ivan e Greggio Leonardi le chiedevo gentilmente se per caso avete addocchiato gli svincolati Iaquinta Rocchi Bogino per fare il vice a Mauri e soprattutto Zucculini che è un centrocampista argentino ex Genoa e Real Saragoza direttore 30 secondi se può anche di meno di meno pubblicità tra pochissimo Pronti partenza Palacart a Parma in via Mantova c'è Palacart pista go-kart elettrici veloci e sicuri sulla pista del Palacart di Parma puoi vivere le emozioni che solo il mondo dei motori può regalarti curve spettacolari staccate al limite e grandi accelerazioni adrenalina e divertimento per tutti adulti e ragazzi aperto tutti i giorni il venerdì e sabato fino alle due di notte se vuoi sfidare i tuoi amici in una corsa elettrizzante all'ultimo respiro vieni a trovarci o prenota la pista allo 0521 27 20 68 GVF Elettronica da più di 30 anni specialisti in comodità e sicurezza GVF Elettronica progetta e realizza tutto ciò che occorre alla tua casa per farti sentire libero e sicuro in modo sorprendentemente semplice per il comfort cancelli automatici di qualsiasi tipologia serrande avvolgibili porte automatiche garage basculanti e realizzazioni varie pensate ed installate ad hoc in base alle tue esigenze per la sicurezza antifurti allarmi e sistemi di videosorveglianza soluzioni personalizzate e tecnologia all'avanguardia GVF offre un servizio chiave in mano curando tutte le fasi di lavoro e offrendo assistenza tecnica diretta con personale altamente specializzato dal 1960 Giancarlo Ferrari propone i migliori arredamenti per il bagno e la cucina esclusivista dei marchi Alno e dei camini Focus e Rueg lo staffa della ditta garantisce un servizio di qualità sia nell'ideazione che nella fase realizzativa di ogni progetto ed effetto a ristrutturazioni complete con servizi di idrauliche e murature propri per fornire il migliore allestimento coordinato la ditta Giancarlo Ferrari vi aspetta a Corcagnano via Langhirano 349A nei suoi nuovi spazi espositivi per aiutarvi nella scelta del vostro arredamento di nuovo in diretta calcio e calcio puntata tra il bilancio del mercato del Parma con l'amministratore delegato giallo-blu Pietro Leonardi in studio tanti sms tanti messaggi su facebook per il direttore allora andiamo a leggere un paio poi ci sono tanti anche sul forum di stadiotardini.it magari riprendiamo più tardi adesso però leggiamo quello che scrive Enrico che è un membro del Parma Club di Sala Baganza che ricorda il signor Leonardi di partecipare alla festa di mercoledì 18 settembre a Sala e ringrazio facciamo anche informazioni di servizio non lo sapevo perciò cercherò di essere mercoledì 18 settembre a Sala Baganza informazioni di servizio noi siamo qua in diretta con la trasmissione ah ecco un messaggio per il direttore è una domanda che arriva sul Enrico Boni contro tutti la scrive Filippo Farnese volevo chiedere a Leonardi quanto ha contato la mobilitazione su internet dei tifosi per trattenere Sansona Parma e poi un'altra domanda che le rivolge che cosa vi fa credere ancora in Biabiani che ha dimostrato di essere solo bravo a correre? la mobilitazione di sanzione zero ho già detto è una situazione che abbiamo dimostrato nel tempo che se tutte le componenti erano d'accordo per fare la cessione non è che dobbiamo essere consigliati perché da questo punto di vista non è giusto dall'altro lato aver fatto questa scelta che ha invece riscosso tanto successo ci ha fatto piacere questo significa che i tifosi hanno pensato come noi perciò non è non è quello il problema per quanto riguarda Biabiani vedremo alla fine dell'anno se corre e basta direttore c'è la preoccupazione da parte di qualche tifoso che Biabiani magari sia un pochino nervoso anche per questo inizio non magari folgorante c'è stato questo episodio ha avuto una schermaglia su Twitter con un tifoso io sono contento perché a Biabiani ho sempre detto che era troppo chiuso che sembrava un po' fuori dalle parti significa che se si incazza un po' come dico io non gli fa male allora proibitegli di tweetare proibitegli di tweetare si fa una bella circolare si dice non si tweeta più nel 2003 nel 2003 nel 2013 proviamo di tweetare ma lascia stare Angela ma dopo ci sono questi episodi gravevoli direttore volevo chiedere una cosa al direttore perché questo episodio qua di Biabiani stamane diciamo così sommato alle notizie a proposito degli ingaggi che sono stati divulgati quest'oggi sia dalla Gazzetta di Parma che dalla Gazzetta dello Sport qualcuno ha detto così ha trovato una sperequazione diciamo così nei compensi ritenendo troppo alto quello di Biabiani a parte che è antipatico parlare dei compensi di altre persone confrontarli quant'altro che ti interrompo poi ti do la parola quelle robe lì non capisco a che servono quello di scrivere gli ingaggi dei giocatori perché poi danno un'immagine sbagliata e non corretta nei riguardi dei tifosi di tutte le squadre parlo io non capisco perché entrare nel particolare entrare nel per di più posso dirvi che anni che vedo quelle robe lì e secondo me c'è poco di reale secondo il mio punto di vista si ha scritto che è la fonte vostra io non do mai fonti quelle sono fonti che arrivano dalla Lega perciò è recuperato sicuramente dalla Gazzetta dello Sport perciò la Gazzetta dello Sport prende in Lega e poi riporta ma a parte quello indipendentemente poi sulla veridicità o no ma non mi sembra giusto è come se domani mattina si mettono qui e dice pubblichiamo quanto guadagna Angela quanto guadagna questo ma che roba è cioè mi sembra una cosa con il mio fanno presto ma ho capito ma che sia poco o tanto non è giusto perché qui si entra in una sfera particolare che è pure privata che non riesco a comprendere poi quando non è nel primo e nell'ultimo caso rispondendo scusa anche dell'interruzione andiamo a guardare anche le altre squadre ci sono soggetti che guadagnano 5-6 volte gli altri magari non giocano mai capita nella contrattazione però prego infatti poi dopo la riporto un attimo io sul campo a proposito di Biabiani scusa Gabriele certo qualcuno ha osservato qualche valore un po' strano nel senso dicono Paletta che è appunto mista a 35 milioni abbiamo spiegato ampiamente per quale motivo ha uno stipendio che è relativamente basso rispetto appunto a Biabiani stesso o rispetto ad altri e qualcun altro aveva invece notato come fosse abbastanza alto l'ingaggio di Okac probabilmente giustificato del fatto che arrivava da una grande tipo la Roma può essere questa la motivazione la motivazione è molto semplice Biabiani arriva attraverso un contratto che era stato fatto all'Inter che poi era andato alla Sampdoria e perciò di conseguenza noi abbiamo ereditato il contratto già in essere per quanto riguarda gli altri giocatori stanno nella fase che sono rimasti negli anni del Parma e non è un caso che i giocatori che arrivano da grandi club hanno un contratto diverso perciò tu lo sai in anticipo poi ci sono tutte un'altra serie di valutazioni da dover fare ci sono dei calciatori noi abbiamo parlato di Okaga abbiamo parlato lì possiamo parlare di tanti bisogna vedere quanto sono costati nell'acquisizione se non sono costati nell'acquisizione significa che lievita il contratto ma questa è la storia di Paletta ci sarà un adeguamento in vista oppure no ma a me premesso che Paletta è contento di quello che ha firmato non è che è stato torturato per fare la firma ma Paletta c'è un contratto ancora per 4 anni l'abbiamo fatto l'anno scorso Paletta ha degli interessanti bonus da ottenere insieme a noi perciò per noi lui è contento e noi altrettanto magari la gente a volte un po' meno perché ogni tanto parla sui siti lo vuole mandare al Milan ma io l'ho invitato a venire poi dopo lui è venuto mi è venuto a salutare portare i pasticini con lo spumante ma il contratto già era fatto direttore invece a proposito di Biabiani la riporto un attimo sul campo adesso lei non mi risponda di questo non me ne occupo perché c'è Donadoni ma riusciremo a vedere in campo Biabiani Sansone Amauri e Cassano tutti insieme io non ho mai evitato una domanda ritengo che sia una cosa complicata ritengo che sia abbastanza complicato Biabiani e Sansone sulle fasce Cassano lì dietro la prima punta in certe partite ma tutto è poi corribile ma ritengo che sia una cosa complicata però l'allenatore è pagato pure per questo perciò se lui mette in campo oltre a questi mettiamoci pure Caca o Palladino cioè non è quello il problema il problema è una questione di equilibri gli equilibri sono fondamentali però adesso avete preso il muro lì a fare da diga centro campo cioè Obi e Gargano li mettiamo lì a fare i due mastini e poi perfetto però li muniamo pure di qualche arma qualche altra cosa perché poi dopo alla fine quello che conta Zella però vi aspetta un attimo perché io devo dire io il verbo del direttore me lo studio la sera hai capito leggo la Bibbia il Vangelo e poi il verbo del direttore a cena però non ci vai più se mai ci sei mai andato allora adesso a stare le cene che adesso ho dei problemi di fegato allora io studiando il verbo del direttore c'è una cosa che mi deve rispondere perché c'è una poi abbiamo anche la telefonata c'è una contraddizione c'è una contraddizione il direttore ha sempre detto che prestiti secchi per valorizzare i giocatori degli altri lui non ne avrebbe mai fatto Obi è arrivato in prestito secco perché? ho capito che Obi non ti piace ma non mi piace Angelo è una domanda sensata molto profonda a differenza di quelle che fai tu sono d'accordo su questo sono d'accordo soltanto che io non potevo prevedere che si faceva male calloppa io ritengo Obi il giocatore più forte che c'è per quel tipo di ruolo e ritengo anche visti i rapporti che abbiamo con l'Inter che Obi se tutto funziona in un certo modo e non rientra in un ordine si potrebbe ma non c'è frenesia di parlare cioè l'Inter è una di quelle società che a noi poi ci è stato detto di tutto e di più che dovevamo fare per forza Silvestre che avevamo ceduto Cerri l'hanno detto tante io ne sento talmente tante direttore l'hanno detto Cerri alla Gazzetta dello Sport questa volta noi non c'entriamo allora questo signore qui però dopo quando io ho risposto non ha più replicato perché si deve prendere pure le sue responsabilità quando scrive queste boiate ok questa è una boiata nel vero senso della parola non so da dove nasce allora la realtà è molto semplice non è mai stato affrontato il tema di Cerri perché non ha senso nemmeno affrontarlo perché ora vale una valutazione a Cerri significa aprirsi una bottega con una palla di vetro allora questo non ce l'ha nessuno questa realtà ritornando a lui invece con l'Inter abbiamo un rapporto molto serio professionale eccellente tanto è vero che balla insieme ancora una comproprietà e nell'epoca è ballata quella di anche lo stesso hobby di Mariga di Biabiani e perciò c'è un feeling che nasce a monte soprattutto da far notare questo tra il nostro presidente e Moratti ok perciò tante volte si parla Leonardo di qua perché c'è il rapporto quello e quell'altro invece la realtà è che c'è grande stima rispetto e professionalità tra Girardi e Moratti proprio per questo noi è vero quello che lui dice lo ammetto però nello stesso tempo dico ci sostituisce una cosa ci dà un risultato sicuramente ma non è detto che non rimanga nel parco e proprio per questo fra un annetto due fra un annetto due Leonardo magari a conti bassa di quello che ha detto Donadone non te l'andai a cercare ogni volta abbiamo un telespettatore pronto buonasera il suo nome? buonasera sono Pino Pino buonasera fedelissimo Pino mi raccomando c'è la clessidra caro direttore c'è l'archivio che parla per me perché io non mi sarei augurato che la perseveranza che ha avuto però Caca l'avesse esplicata perché io ho già parlato a Roma 1 dove lei parlerà tra pochi giorni perché è di brammatica che lei nelle vigili di Parma Roma o Roma Parma sia invitato lì a Roma 1 Roma 1 allora io i dieci giorni che parlavo di uno degli attaccanti più forti d'Europa Graziano Pellè e non mi si dica che era contestato perché puro Caca è stato costantemente contestato allora noi abbiamo perso uno dei più grandi attaccanti che attualmente ci sono in Europa che ha assegnato 31 reti l'anno passato e quest'anno ne ha assegnati in 5 partite già 7 e l'Ajax lo voleva comprare per 12 milioni e il Fea Nord non l'ha voluto vendere perciò quello che questo pubblico dovrà pagare perché è un peccato originale che non se lo toglierà mai di avere osteggiato c'è l'archivio Tandreva e Pellè però lei doveva usare la stessa perseveranza che sta usando per Okaka grazie grazie Pino abbiamo capito chiarissimo interrompiamo perché purtroppo i tempi della trasmissione sono severissimi le rimprovera di non avere avuto con Pellè o magari con Candreva la stessa pazienza invece avuta con Okaka Candreva non era nostro io penso che lui abbia ragione per certi versi però bisogna mettere insieme sempre le tre componenti perché poi se uno si sente non come posso dire non considerato snobbato da un certo punto di vista cioè è anche deprimente per certi versi e poi la componente del calciatore conta nel momento in cui c'è una richiesta di un club importante che magari ha l'ambizione di andare in Europa il club richiade il giocatore e il giocatore esterna la volontà di andare ma nello stesso tempo c'è anche l'altro detto che è quello che in una società come la nostra bisogna vendere e pentirsi di aver venduto perciò ci sta su Pelle Candreva era un investimento importante il diritto di riscatto e dopo quel tipo di annata e per quel tipo di rapporto che si era creato anche qui a livello diciamo così territoriale non si è ritenuto di doverlo acquistare ma ci sta fa parte del gioco magari abbiamo fatto un errore allora subito dopo la pubblicità andremo a parlare delle prossime partite c'è già qualche polemica che riguarda la partita con la Roma soprattutto a livello di collocazione di giorno e di orario prima un sms un post Lorenzo sulla pagina facebook di Teleducato lo scrive Ugo Mazzoni da una valutazione allora mercato da sette e mezzo in pagella sono rimasti tutti big e ci sono fatte per Belfodil sostituito da Cassano uno dei primi tre giocatori d'Italia per le qualità delle giocate difesa puntellata e il centrocampo energico allora andiamo in pubblicità poi prepariamo il calendario delle prossime sfide perché è un calendario abbastanza impegnativo sarà un settembre sicuramente molto molto intenso per le maglie crociate tra pochissimo grazie a tutti quando il divertimento si fa vincente Jackpot Las Vegas nuove sale slot e videolotteri a Ponte Taro di Parma e a Parma in via Emilio Lepido scommettiamo che ti diverti gioca senza esagerare il gioco può creare dipendenza dal 1960 Giancarlo Ferrari propone i migliori arredamenti per il bagno e la cucina esclusivista dei marchi Alno e dei camini Focus e Rueg lo staffa della ditta garantisce un servizio di qualità sia nell'ideazione che nella fase realizzativa di ogni progetto ed effetto a ristrutturazioni complete con servizi di idrauliche e murature propri per fornire il migliore allestimento coordinato la ditta Giancarlo Ferrari vi aspetta a Corcagnano via Langhirano 349A nei suoi nuovi spazi espositivi per aiutarvi nella scelta del vostro arredamento eccoci qua di nuovo in diretta ultimissimi minuti di calcio e calcio alla regia chiediamo di mettere in sovraimpressione il calendario sarà un settembre molto molto intenso per il Parma perché intanto si inizia lunedì 16 contro la Roma le 20.45 il posticipo poi si va a Catania il 21 c'è il turno infrasettimanale contro l'Atalanta il giorno 24 e poi si va a Firenze in questo caso ancora di lunedì per l'ultima l'ultima giornata del mese di settembre Ivo Dallabona non ti è piaciuta questa collocazione del lunedì scusate prima che finisce che si inizia questo discorso sul mercato una cosa molto importante che è una nota anche positiva se ne parla poco ieri è stato un evento ieri o l'altro ieri che sono stato contento che ha rigiocato che ha fatto gol cioè noi abbiamo acquistato Saponara Saponara è un giocatore che secondo me si sa perché non gioca nel Parma non è direttore che magari se nel Milan gioca solo le amichevoli a gennaio magari può io mi auguro di no però significa che si aumenti il valore attenzione bene Lorenzo Fala è un giocatore importante non dimentichiamo che il Parma ha fatto un investimento nell'acquistare Saponara non indifferente però lei non me lo esclude che a gennaio no io non è che io dico che sono contento della rosa che c'è mi auguro che faccia quello che tutti quanti noi abbiamo preventivato e mi auguro che Belfodille e Saponara ecogisticamente facciano bene nelle loro squadre se però Saponara non dovesse fare bene ancora ma a dirlo Belfodille lo danno già in partenza si di fatti l'ho visto di fatti avevano detto anche questa che andava via alla fine d'agosto Ivo Dallabona ci sono i tifosi un pochino in mobilitazione per questa collocazione del lunedì si per quanto riguarda l'hai anticipato ho visto un po' il calendario lunga scadenza secondo il mio punto di vista ma non solo mio il Parma è stato molto penalizzato in questo bilancio di partite da non giocare la domenica alle 15 ma alle 12 e mezza alle 21 alle 20 e 45 mentre secondo me ha un senso e infatti mi rivolgo a Leonardo per dire questo se non è il caso visto che un po' di peso anzi molto peso lo stiamo avendo in Lega perché mi risulta che ci risulta in tanti che il Parma si sta facendo sentire i suoi altri argomenti anche su questo forse più convinto nel dire che certe cose veramente noi ce le fanno sempre bere sto parlando di tifoseria sia chiaro rappresento qualcuno che si fa sentire anche in questo se ha un senso dire che con la Fiorentina dobbiamo giocare a lunedì sera perché alla domenica c'è il campionato del mondo di ciclismo e lì effettivamente la cosa andava in contemporanea era molto difficile di non trovare questa soluzione però secondo il mio punto di vista ma anche su altri con la Roma non ha senso giocare dopo che qualcuno anche anzi molta gente ci aveva già programmato anche un'altra settimana di lavoro o altre cose ti fanno giocare alle 20.45 lunedì sera con una tifoseria non per buttare benzina sul fuoco sia chiaro questo ma la Roma e la Lazio e compagnia cantante hanno dei brutti precedenti non solo con il Parma ma anche con altri ci troveremo a gestire un ordine pubblico che non sarà di facile attuazione perché vengono giù in massa sicuramente anche se c'è stata una limitazione certo però io questa limitazione la voglio estendere cioè volevo fare la proposta anche se giustamente noi non contiamo niente a livello di tifoseria giustamente quando facciamo qualcosa noi a Parma andiamo sui giornali perché abbiamo fatto una piccola cosa fanno cose gigantesche alle altre tipo distruggere un pullman del Verona la settimana scorsa questo è normale dopo averli chiuso la curva la settimana prima ancora allora non era il caso di farli stare a casa anche però così i legittimi delinquenti scusami non era il caso di farli chiudere definitivamente anche per questa trasferta per un ulteriore segnale un ulteriore segnale perché questi i segnali non ne ferica più niente loro sono dei vandi chiusi cioè loro una parte di questo per fortuna sia chiaro però dico noi saremo a gestire anche questo a Parma non dimentichiamocelo perché dopo piangere sempre dopo quello che è successo al Bargiani l'anno scorso adesso basta nel senso che certe cose dobbiamo anche io ripeto lo ripeto ancora non so se è possibile ho finito il Parma su queste cose in lega dovrà picchiare duro perché effettivamente siamo un po' troppo penalizzati negli ultimi tempi allora iniziamo la domanda sono tante domande cominciamo iniziamo sì sì no 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 ma io cerco di rispondere a tutti primo bisogna è una constatazione intelligente quella è vera quella che il Parma in lega ha il suo peso perché e questo bisogna ringraziare il Presidente perché in prima persona segue lui il rapporto in lega è un consigliere di lega e a tutti gli effetti riesce a portare avanti delle battaglie dove c'è la possibilità di poterle sviluppare allora bisogna entrare invece a seguire in un'ottica diversa io l'ho detto in un'ultima conferenza stampa cioè il calcio ora è questo allora se noi vogliamo cambiare questo tipo di sport ci facciamo un campionato da soli col Parma e dobbiamo prenderci purtroppo le note positive e negative allora entro nello specifico così anche i tifosi capiscono che cosa significa primo aspetto se il Parma quest'anno come mi auguro come sono fiducioso rimane in serie A in una logica di ripartizioni che è molto importante che è quella del 5% sul 100% vale il quinquennio in questi 5 anni il Parma ha sempre pagato dazio di quella maledetta retrocessione questo significa che l'anno prossimo il Parma avrà più risorse proprio in riferimento a quella percentuale altro aspetto molto importante abbiamo visto tutti non è il caso del Parma ma anche se noi manteniamo teniamo botta come sol dirsi sugli abbonati sui biglietti su tutto il resto ed è in questo momento anche da ringraziare cosa che ho fatto con molto veramente con molta sincerità perché in questo momento è molto complicato ma il valore dobbiamo essere coerenti non lo dico perché no il valore è affettivo è emotivo è di ringraziamento nei guardi dei nostri tifosi ma è un valore molto molto limitato in riferimento a quello che è il costo di una stagione e allora rapportato in quell'altro modo dobbiamo essere coerenti che vogliamo un Parma più forte vogliamo un Parma competitivo un aspetto fondamentale è quello che nella logica delle ripartizioni come ho detto prima è il mantenimento della categoria altro aspetto importante fa fede l'auditel in riferimento agli ascolti delle partite di televisione in televisione allora ti ribaddo la domanda Parma-Roma vista di domenica pomeriggio Parma-Roma lunedì sera e c'è solo Parma-Roma significa che schizza l'auditel e da quel punto di vista c'è un risultato anche per il Parma che di solito non ce ne ha questo significa che il Parma-Fiorentina giocato di lunedì sera avrà un valore di un certo tipo mancanza di rispetto concordo nel riguardo della tifoseria nel riguardo di tutti però è quella classica coperta che la tiri da una parte e poi da un'altra questo significa che se noi non è che abbiamo la voglia di giocare lunedì perché il presidente era più arrabbiato di tutti di giocare lunedì però almeno visto che c'è una regola visto che chi determina il tutto è il proprietario del diritto e dice voglio fare delle partite anche di lunedì perché devo riempire i miei palinsesti almeno la minima soddisfazione che lunedì sale l'auditel e riferimento a questo e sale un indice ulteriore a quello che ho già detto perciò e finisco la terza cosa molto importante avrete notato le polemiche di questo periodo della Lega che sembra spaccata quello e quell'altro che è riferito al discorso dei diritti soprattutto esteri sapete che produttività c'è e che polemica c'è in atto per quale motivo perché la partita del 12-30 che è una scocciatura che io ho detto mi sembra ritornare a quando andavo a vedere le partite dalle allievi ha un tira in una maniera incredibile a livello estero e perciò questa è un'altra risorsa che fa sì che questo mondo questo calcio in un momento così negativo è l'unica realtà è l'unico indotto che produce ancora di più e che non produce quello che devono capire tutti soltanto quello che si legge lì mancando nella legge nella logica della privacy nei riguardi i giocatori ma produce tasse cioè questo mondo qui in un momento così drammatico se quei compensi fossero totalmente veri sono quasi sicuramente veri si raddoppiano tutti vanno tutti nella cassa dello Stato è un carrozzone che prima di sparrarne tutti dovrebbero un attimo avere un pochino di logica perché è vero che c'è uno sproposito di chi guadagna nel calcio a differenza di chi poi si trova nelle difficoltà momentaneo ma se noi andiamo a togliere quel meccanismo lì la nostra nazione si troverebbe ancora peggio questo è il pensiero che dico con molta libertà insomma direttore grazie avremo veramente piacere di continuare a lungo la trasmissione il palinsesto non ce lo consente noi la ringraziamo per essere stato qua con noi facciamo i complimenti per il lavoro comunque che ha fatto quest'estate poi ci possono essere tifosi che sono più o meno contenti giornalisti che possono essere più o meno contenti la ringraziamo comunque per la disponibilità con cui si è posto nei confronti delle tante domande avremmo voluto esaudirne di più cercheremo comunque anche nei prossimi giorni ulteriormente di alimentare il dibattito di tenere facendo una battuta scusa se ti interrompo poi nelle prossime volte ci avrete Boni perciò vi risponderà lui a tutto da ventrilo buonanotte grazie a tutti arrivederci ci vediamo lunedì prossimo alle 22.30 siamo qua e poi mercoledì alle 21 perché iniziamo anche le puntate infrasettimanali di qui fino a fine maggio due volte la settimana con calcio e calcio arrivederci grazie amici in collaborazione con sale gioco jackpot las vegas scommettiamo che ti diverti fa la carta di Parma non pensare di essere il più veloce vieni a dimostrarlo a Parma in via Mantova 86A